Gregorio Morachioli è un altro dei giovani arrivati alla Pistoiese nel calcio mercato estivo. Esterno di attacco, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus per poi passare all'Ospezia. Arriva a Pistoia in prestito e questa sarà la sua prima stagione tra i professionisti. Attaccante rapido, con velocità, dribbling e abile nei cross. Tu per quale motivo hai scelto la Pistoiese? Quando me l'hanno proposta e mi hanno detto che ci sarebbe stata la possibilità di venire qua, mi sono trovato subito d'accordo, ben volentieri. Pistoia si sa è una piazza di calcio, come ha detto anche il direttore. Ho un'opportunità da cogliere al volo, dai. Dove sei cresciuto calcisticamente? Sono cresciuto tutte le giovanile allo Spezia, ho fatto, tranne i due anni alla Juventus, per poi tornare allo Spezia l'anno scorso con il mister Marino. Da quest'anno cosa ti aspetti? Quest'anno mi aspetto e spero un'annata importante, di crescere calcisticamente in un campionato importante e speriamo che vada tutto per il meglio. Che attaccante sei? Io sono un attaccante esterno, da 4-3-3 diciamo, dai. Come ti sei trovato appena sei arrivato? Molto bene, da subito il sistema di gioco e l'ideologia del mister Pancaro mi sono subito piaciute. Diciamo il sistema di gioco perfetto e le idee migliori che mi aspettavo, diciamo, dai. E da queste stagioni cosa ti aspetti? Una stagione importante, cercheremo di fare il meglio che possiamo, cercheremo di ricavare il più possibile da quello che si presenterà. Come sta andando questo ritiro? Sta andando molto bene, stiamo iniziando a sviluppare i primi concetti che il mister ci sta dando. Le cose per ora sembrano andare molto bene, abbastanza bene.